Buonasera! Buonasera a tutti e a tutte, bentornati nella nostra Tana, questa volta senza pixel. Finalmente siamo coordinati con il set, non siamo in giro in barca, ma ci si tornerà presto, per cui non abituatevi a tutto questo benvedere di qualità, anche perché John è in situazione fibra solo per oggi in maniera... No, per le prossime tre settimane sarò in teoria con una faccia normale, come dicevo prima che cominciassimo la live, non con la faccia da Minecraft, come sono di solito con tre pixel al posto dei... Ok, sappi che è meglio Minecraft. Lo so, sono le imperfezioni. Detto questo cominciamo, ma prima, ma prima, scusa perché tu ogni volta salti le parti introduttive io ti odio, ma prima ricordo che ci sei questo lo su YouTube, bravissimo, che questo è l'Estatto News, cioè un contenuto che voi vedrete venerdì mattina, ma che noi facciamo giovedì sera con i nostri mail mini-iscritti e del quale avrete solo un assaggio, perché vedrete l'Estatto News, che guarda caso parla di news, l'avreste mai detto, e non vedrete invece tutta la parte di market update, di analisi, di strategia, cioè sostanzialmente le minchiate che spara all'alto che vedete nell'altra telecamera, facendo finta di darsi un tono, che invece sono riservate a chi fa parte in modo attivo e totale della nostra community. Di conseguenza sono terminate. Attivo e totale mi piace. Sì, sembra molto professional e seria come cosa. Di conseguenza, se volete saperne di più, link in descrizione, profilo free, vi fate un giro, capite come funzioni, cosa succeda e arrivederci a tutti. Quanto che non dico link in descrizione? È bello, eh? Vai, prego, parti, allora, notizie del giorno. Ti shareo lo screeno, aspetta un secondo, dimmi quando sono... Mi ricordo come si faccia così, credo. Fantastico. Dammi il feedback. Sì, ci sei. Bellissimo, madonna, che spettacolo. Allora, Tosi, Tosi è il veneziano per ragazzi e ragazze. Prima notizia, che non è una notizia in realtà, ma una riflessione. Secondo una serie di analisi e di analisti, il fatto che Ethereum stia per passare al merge, che vi ricordo sarà tra pochi giorni, quindi occhi aperti ai grafici di Ethereum, potrebbe essere una cosa molto figa e molto interessante per l'ingresso degli istituzionali. Ve lo faccio molto breve e molto semplice. Il concetto è questo. Con il passaggio al merge, se tutto andrà bene, non ci saranno casini e sarà tutto come da piani e via dicendo, Ethereum avrà una serie di vantaggi, uno dei quali sarà il fatto di essere molto più sostenibile da un punto di vista energetico, perché stando le stime il consumo energetico verrà tagliato del 99% rispetto all'attuale sistema che utilizza ancora la Proof Work, per chi non lo sapesse, il sistema di validazione di Bitcoin, ma soprattutto diventerà molto più scalabile nel tempo, a livello proprio di scalabilità sua del progetto, ma anche di costi, di sviluppabilità e via dicendo. Quindi diventerà di fatto un progetto estremamente più appetibile rispetto a quanto non sia adesso e già adesso ha il suo bel valore. Inoltre, con questo tipo di impostazione, quindi diciamo con l'accaduto del tabù del consumo energetico e con l'introduzione di una soluzione più eco-friendly, la, secondo appunto questi analisti, la propensione di istituzionali grossi investitori a utilizzare Ethereum e ad investirci, quindi a muoverci dentro capitale, dovrebbe diventare molto, ma molto, ma molto, ma molto più, molto più marcata, molto più decisa. In aggiunta, questa è una cosa che spesso non viene presa in considerazione da chi fa parte, magari, da chi un trader è un po' più piccolino, un investitore privato, ma che invece gli investitori istituzionali tengono fortemente in considerazione. Ethereum, a partire, diciamo, per darvi delle forbici indicative, a partire a un anno di distanza dal completamento del merge, quindi grosso modo tra un anno, andrà a sbloccare, a rendere tutte le opzioni di staking molto, molto più agili. Ci sarà un aggiornamento che si chiama Shanghai, avrà appunto in teoria tra un anno, che permetterà di utilizzare lo staking su Ethereum in modo molto più semplice, molto più agile e che quindi permetterà agli istituzionali di andare a beneficiare di un 10-15% di interesse annuo in modo molto flessibile. 10-15% annuo su di interessi, parliamo di staking, su somme, mosse, somme grandi come quelle mosse dagli istituzionali e soprattutto se confrontate a quelli che sono a quelli che sono i rendimenti, i titoli di Stato, è una occasione molto, 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 molto ghiotta che di conseguenza potrebbe portare di nuovo grosse realtà, grosse wealth, ma soprattutto realtà istituzionali, a muoversi, a riversarsi in massa su Ethereum e abbandonare o comunque diversificare maggiormente quelle che invece sono le posizioni legate alla finanza tradizionale. Questo, tutto sto giro, in parole povere per dirvi cosa, che secondo queste analisi, secondo questi analisti, Ethereum potrebbe, se tutto dovesse andare in questa direzione, cominciare a staccarsi, ad allontanarsi, proprio come andamento del prezzo e come dinamiche e come cicli di funzionamento di mercato da quelli che invece sono gli altri cryptoasset, perché andrebbe a configurarsi in modo completamente diverso, proprio a livello di dinamiche su interne, rispetto magari a, che dico a caso, un Cardano, un Polkadot, cioè a tutti gli altri progetti molto più legati alla natura tradizionale dei cryptoasset. Ovviamente siamo molto nell'ambito della speculazione, nel senso che innanzitutto il merge deve andare bene e questo è il primo passaggio, in secondo luogo bisogna aspettare Shanghai, in terzo luogo bisogna vedere come evolverà la situazione anche rispetto al resto del mercato, sia crypto che tradizionale, però sono secondo me delle valutazioni molto interessanti da fare per chi soprattutto guarda Ethereum come un long term investment e con un'ottica di analisi fondamentale, perché sono tutte caratteristiche molto specifiche di Ethereum che difficilmente potrebbero essere applicate o riprodotte soprattutto nel breve termine da altri progetti. Quindi ecco, il mio consiglio è di darvi, non finanziario ma di lettura, di darvi una letta a questo articolo che poi troverete come al solito in descrizione e di cominciare a ragionare su Ethereum, almeno fare un esercizio di ragionamento su Ethereum anche in un'ottica un po' diversa, un po' più a 360 gradi rispetto a quella che molti di noi o molti di voi probabilmente hanno fatto fino ad oggi. Seconda notizia, El Salvador celebra l'anniversario di Bitcoin, perché un anno fa il nostro buono El Salvador, che come sapete e che per chi non lo sapesse, lo dico io adesso, ha fatto da capofila nell'acquisizione di Bitcoin, nell'adozione di Bitcoin come legal tender, quindi come valuta corso legale, lanciava il, appunto si muoveva come primo tra tutti, come appunto capofila di questa innovazione, di questa trasformazione. È passato un anno, quindi è un momento diciamo anche simbolico ma banalmente tecnico per fare una sorta di bilancio di come siano andate le cose fino ad oggi e in questo articolo trovate descritto un po' quali siano quali siano i numeri e le riflessioni che sono state fatte, che possono essere fatte a proposito di questo esperimento primo del suo genere, perché in maniera così totale, in maniera così anche aggressiva per certi versi, fino a El Salvador nessuno sarà mosso, nessuno stato sarà mosso nei confronti dell'eclitto. L'articolo sostanzialmente fa, divide l'analisi in due parti, la prima parte è quella banalmente dei numeri, cioè dice El Salvador è entrato, l'abbiamo detto un milione di volte anche su questi scherchi, con un sacco di ingressi per la precisione 10 di buy by dip, quindi è andato ad acquistare bitcoin quando bitcoin andava a riterciare in modo da posizionarsi in modo intelligente, si è sposto in maniera piuttosto importante e ad oggi però, visto la situazione attuale di mercato, quel valore, quell'esposizione è in netta perdita, nel senso che ad oggi siamo circa il 60%, cioè l'esposizione di El Salvador su bitcoin ha perso circa il 60% del suo valore. Almeno a livello nominale, perché voi sapete che finché i bitcoin poi non vengono riconvertiti in valuta fiat, in valuta fiat tradizionale, la perdita e i guadagni non vengono di fatto, non vengono, aiutami amico che ho la demenza giovanile, non vengono consolidati, non vengono consolidati. Grazie, quindi resta una situazione fondamentale agli edifici, quindi resta una situazione potenziale. Qui da un punto di vista numerico molti dicono che l'esperimento bitcoin di El Salvador è di fatto un fallimento, perché ad oggi siamo a più del 50%, al 60% appunto di perdita. In realtà quello che è figo di questo articolo è che nella seconda parte di analisi va ad affrontare quelli sono gli aspetti collaterali, cioè dice ok, se oggi El Salvador convertisse tutti i bitcoin in valuta fiat sarebbe nettamente in perdita, ma ci sono tutta una serie di effetti collaterali che invece sono andati a favore, diciamo, a sopportare, a rendere un potenziale successo, per quanto io su questo abbia i miei punti di domanda, quella che è stata la decisione del Salvador, perché per esempio c'è stato un aumento del turismo, che secondo l'articolo è legato principalmente a come si è mosso El Salvador con le cripto e con bitcoin, dell'80%, cioè il turismo in El Salvador è riusciuto all'80%. C'è stato un afflusso di denaro e diciamo c'è stata una movimentazione economica che è stata indotta appunto dall'adozione di bitcoin, che ha comunque favorito sia la trazione di capitali di investimenti esteri, di capitali esteri, sia proprio la movimentazione dell'economia locale e quindi diciamo una maggior floridezza di quelli che erano, di quelle che erano le dinamiche interne economiche del paese. C'è stata la possibilità, che non va presa sotto gamba per quanto sia una possibilità diciamo più simbolica, più simbolica e culturale, che non di beneficio economico diretto, ma la possibilità per la popolazione del Salvador, che per il 70% non aveva accesso a servizi finanziari di base, di avere accesso libero e totale ad un circuito finanziario indipendente. Che è uno dei concetti del bitcoin di base. È uno dei concetti chiave del bitcoin, oltre al fatto che come molti paesi più piccolini, con un'economia più debole o appartenenti alla categoria degli stati emergenti, avere accesso ad un circuito finanziario indipendente e autonomo, concettualmente democratico, è anche un modo per emanciparsi da quella che da molti viene considerata l'egemonia delle valute fiat tradizionali, a partire dal dollaro. Quindi con tutti i suoi pro e contro, perché poi su questo possiamo farci un sacco di ragionamenti, ma diciamo che se visto da punti di vista diversi, del semplice ho investito tot, ho tirato fuori tot, l'esperimento bitcoin di El Salvador potrebbe essere considerato un successo sotto molti punti di vista. La mia personalissima posizione, non richiesta ma ve la dico comunque, è che in realtà uno dei vantaggi più grandi di questa decisione fatta da El Salvador, anche con i potenziali rischi che questo potrebbe comportare per il paese, è stata quello di fare da apripista, perché dopo che El Salvador ha fatto questo calcio a porta vuota, dicendo sapete che noi prendiamo bitcoin come legal tender, voi fate quello che volete, molti altri paesi, anche molto vicini a cominciare dalla Svizzera, in modi più o meno spinti si sono cominciati a muovere in questa direzione. E quindi ripeto, magari El Salvador poi fallirà, ha fatto una minchiata con i suoi investimenti, tutto quello che volete, e in quel caso sarà un grande dispiacere per tutti noi, ma di fatto nell'ottica del bene comune ha fatto per l'eclitto un grandissimo passo perché ha sfondato un tabù e ha cominciato a dare il via libera per una serie di tentativi, di sperimenti e trasformazioni. Quindi nel complesso, bilancio positivo. Ultima cosa, questa la faccio veloce perché è una notizia interessante ma nell'immediato ha una ricaduta pratica fin là, ed è una notizia che riguarda la nuova partnership che è nata tra GameStop ed FTX. Allora GameStop, per chi non lo sapesse, è una compagnia, un'azienda grossissima, chi è che non lo sapesse, dai, c'è chi secondo me è qualcuno che potrebbe non saperlo, è un'azienda leader, vedrete un gatto, nell'ambito dei videogames e tra l'altro è un'azienda che è un nome che avrete sicuramente sentito nominare l'anno scorso quando c'è stato quel bellissimo episodio di manipolazione del mercato dal basso, quindi la community si è mossa contro gli investitori grossi, le whales, che cercavano di manipolare il mercato attraverso Robinhood, se non ve la ricordate, poi magari ne parliamo in community, perché è stata una cosa molto, molto, molto figa per il tipo di messaggio che ha dato, alla viper vendetta per capirci. Mentre FTX, anche questo l'avrete sentito nominare perché ultimamente lo stiamo nominando tantissimo e ci faremo spero presto dei contenuti perché è molto potente, un sacco di funzionalità, è un exchange, uno dei principali, che tra l'altro si è distinto soprattutto nell'ultimo periodo perché ha dimostrato di essere perfettamente in salute, almeno per quello che ha dato a sapere a noi, rispetto anche a realtà molto grosse come Coinbase che invece il Crypto Winter l'hanno sofferto molto più pesantemente. Tanto per dirvela molto velocemente, mentre Coinbase ha fatto dei tagli, ha visto delle perdite di azioni, e dico Coinbase ma voglio dire potremmo allargare molto il cerchio, FTX non solo non ha avuto di questa necessità ma addirittura si è mosso nella crisi generale seguita dal crollo di terra e luna, proponendosi di salvare, di acquisire realtà come Voyager o come BlockFi e di intervenire in supporto degli investitori che si erano scottati con tutto il casino nato per esempio dal collasso di 3 Aros Capital e tutto il casino insomma che è stato innescato da luna. Quindi stando i numeri, stando come si stanno muovendo la politica estremamente aggressiva di FTX, si tratta di un exchange con due palle d'acciaio grandi così, o due ovaie d'acciaio grandi così, a seconda del genere che fa ferite. La cosa interessante di questa partnership che sta iniziando con GameStop, che è iniziata tra GameStop appunto e da FTX, è che si tratta come sempre di uno di quei passaggi che magari passano in sordina, ma che mettono insieme giganti del mondo tradizionale, finanziario o in questo caso non finanziario, ma legato all'entertainment, ai videogiochi, con realtà grossissime invece del mondo cripto. E questa cosa ha un vantaggio per entrambi, perché da un lato permette alla realtà cripto, in questo caso FTX, di avere accesso ad un pubblico magari innanzitutto molto più ampio e magari di base meno sensibile ai temi delle criptovalute e dei criptoasset. E dall'altro invece permette a realtà, come in questo caso GameStop, di essere molto più aggiornate, molto più sul pezzo e non rischiare di fare la fine della Polaroid dell'epoca. Nel senso che GameStop, che non sta versando in buon acqua, ha avuto un sacco e ha un sacco di casino a livello di valutazione dei propri titoli, in realtà in questo modo si sta difendendo, si sta muovendo in modo logicamente intelligente, poi vedremo cosa succederà, nei confronti invece del mondo della GameFi e dei play to earn, quindi del mondo di videogiochi legato alla blockchain e al futuro, per esempio in buona parte dei videogiochi, che rischia di diventare un competitor pesantissimo per le realtà tradizionali. Quindi, senza scendere al dettaglio che chi se ne frega, poi potete leggere nell'articolo, attraverso iniziative di e-commerce, di online marketing e allo stesso tempo di trasferimento delle cose digitali e dell'ambito fisico, per esempio con delle carte a regalo di FTX vendute nei negozi fisici, nelle store di GameStop, si sta avviando questo tipo di rapporti di collaborazione, che potrebbe veramente diventare nel futuro uno dei tante pietre miliari di una fusione sempre maggiore tra mondo crypto e mondo invece tradizionale. Questo per dirvi, al di là della notizia in sé, che FTX, se state alla ricerca di un exchange interessante e di un'alternativa magari a quelli che vengono utilizzati più da Binance o Coinbase, è potenzialmente, e non è un consiglio finanziario, fatevi la vostra cavolo di due diligence, ma è potenzialmente uno dei player più interessanti, perché si sta muovendo veramente, veramente bene. Io non aggiungerei altro, caro Michelino, e lascerei la parola. No, mi hai tolto il coso, volevo fare un test con una roba, vabbè, comunque ti ho messo a tutto schermo, cioè sul lato, perché finalmente ti si vede bene per una volta, quindi ho voluto approfittarne. Quindi non c'era nessun pallino che saltassi come al solito. Non c'era nessun pallino né niente, solo quando è passato il gatto ti sei pixelato. Ah, ecco, ecco che posso provarlo. Tac, tac, bellissima questa cosa. Vabbè, ci hai messo giusto, giusto, ci hai messo giusto. Allora, che dire, le news si aggiungono a quelle della regina Elisabetta, pace l'anima sua, che rispetto a questa live è mancata due ore fa, quindi anche qua adesso sarà interessante vedere un po' che cosa succede in Inghilterra, cioè non che non fossero preparati, diciamo, però. Basta, passiamo al market update per chi è nei Mad Men e per chi non lo è, cioè entrateci, punto, cioè c'è poco da fare, visto che il periodo rimane comunque sempre a Bitcoin, che si può comprare a prezzi bassi, non è un consiglio finanziario. E non è un consiglio finanziario. Ecco, madonna quanto mi dà fastidio dire sta frase ogni volta. Sì, però ho bisogno perché entra da poco. Ciao ragazzi, con quelli che ci siano su YouTube ci vediamo nei prossimi giorni, con gli altri ci vediamo tra un secondo in live. Camera, no, com'è che si dice, parola allo studio, ciao! Aspettato